Sono gelosi come non mai del sottobosco, tanto che i segreti non li rivelano neanche a mogli e figli. Li raccolgono per mangiarseli, ma anche solo per il gusto della sfida di scovarli. Hanno regole rigide, scritte e non solo. E soprattutto sanno bene che per la loro passione il territorio piacentino rappresenta una vera culla che attrae anche i forestieri. Puntata dedicata a fungaioli e tartufai, quella di fuori sacco andata in onda ieri sera su Tele Libertà, condotta dal direttore Nicoletta Bracchi e dal vice direttore Michele Rancati. Tanti gli ospiti presenti nel salotto, Gianni Raineri, sostituto comandante del Corpo Forestale, Giuseppe Mion, direttore dell'Unità Operativa Igiene, Alimenti e Nutrizione dell'ASL, Giuseppe Fricano, botanico e docente dell'Università Cattolica e Aldo Gazzola, micologo. Ma anche una parte dedicata al confronto tra chi è diventato negli anni un accanito tartufaio come Pietro Saggini e chi da sempre si sente fungaiolo dentro come Alessandro Marchesi. Circa un'ora e un quarto di trasmissione in cui si è appreso molto su questo affascinante mondo che richiama sulle nostre montagne, ma anche in pianura nel caso dei tartufai, migliaia di persone di tutte le età che sfidano anche le più avverse condizioni meteorologiche pur di accaparrarsi i tesori. Un popolo sempre più disciplinato e rispettoso delle regole, quello dei fungaioli e dei tartufai piacentini, lo ha detto il comandante Raineri. Abbiamo rilevato negli anni un numero decrescente di irregolarità e questo anche grazie all'azione educativa che in parte svolgiamo. Nonostante l'anno avaro per la scarsa pioggia, il territorio piacentino offre comunque una gamma di funghi esagerata. Gli esperti micologi come Gazzola ne hanno censiti ben 617 e li hanno raccolti in una sorta di enciclopedia che viene aggiornata costantemente. Quando ho i dubbi raccolgo il fungo, penso che sia quello e dopo faccio una verifica al microscopio e quando poi non sono ancora sicuro mi consulto con altre persone ben più competenti di me. Allora, le dobbiamo toccare perché sa come non si rompono. Questo è gigante, è un fungo gigante. Cioè questa è la mia mano, ha la proporzione anche la sua. E' una bolletacea, per parte della famiglia delle bolletacee ed è il famoso bolletto satanas. Passione sì, ma occhio anche alla salute. L'Asla ha un ufficio apposito dedicato alla micologia con un esperto che può essere interpellato sul tipo di fungo trovato se sia esso commestibile oppure no. Bisogna considerare questo, che tutti i funghi, chi più chi meno, hanno una piccola tossicità. Per cui anche il classico porcino, in particolare mangiato crudo, in particolare persone che magari hanno delle patologie, già hanno insufficienza epatica, bambini, persone anziane e quant'altro, e il mangiarne molto e ripetuto, bene o male, determina dei leggeri danni al fegato. Anche quello che è più... Quindi guai ad esagerare anche nelle porzioni se si vogliono evitare intossicazioni. A Piacenza, nell'ultimo anno, ce ne sono state sei a fronte di 58 parere richiesti all'Asno.